Un ciao a tutti da Giuseppe. Allora, mi trovo nel reparto da uomo. Allora, le scarpe da uomo sono sempre state la mia passione da quando ho iniziato a lavorare. Infatti lo vedete quante ne abbiamo. Sinceramente, guardate, qui abbiamo di tutto e di più, nello sportivo, nell'elegante, articoli belli, francesine, derby, in camoscio, scamosciati, in pelle, in vernice, di tutti i generi, ingrassati, polacchine, lo vedete? Queste polacchine come vanno adesso. Qui abbiamo un assolutamente immensa, abbiamo la Laia, abbiamo di tutti e di più. Ma c'è una cosa che vi voglio dire, vi voglio sorprendere. Quante volte io vi dico sinceramente che vi riempiamo di sorprese, vi facciamo delle sorprese veramente meravigliose, delle cose incredibili, delle cose mai viste al mondo, mai viste al mondo. Allora, dal primo novembre, cioè dal 2 novembre, perché il primo siamo chiusi, dal 2 novembre fino al 15 novembre, al bottegone della cazzatura, le scarpe da uomo, eccole qui, le scarpe da uomo, tutte le pagate, il primo paio lo pagate, il secondo il 50%, lo pagate il 50% da uomo. Quindi avete ben capito i regali che facciamo noi. Cose incredibili, perché in piena stagione il primo paio da uomo lo pagate, il secondo lo pagate il 50%. Ecco perché vi meravigliamo. Quando io dico che questa testa non so più cosa c'è dentro e magari se me la picco si sente suonare, come no, senti Pierpaolo, senti? Che forse è vuota, perché onestamente noi vediamo tutto l'assortimento fresco, non articoli rimanenze di magazzino, articoli belli, arrivate adesso, Geus, Efrao, Igeco, Grisport e di tutti di più, Mirage e via. Noi, Kevin Clay, il primo paio lo pagate, il secondo lo pagate il 50%. Quindi facciamo delle cose incredibili. In piena stagione articoli belli, articoli nuovi, dal primo al 15 novembre, cioè dal 2 al 15, perché il primo siamo chiusi. Quanto tempo abbiamo? Bene, 30 secondi per salutarvi, eccole qui, abbiamo un assortimento incredibile, sia nel reparto sportivo che nel reparto elegante. Quindi vi aspetto tutti, come sempre, per farvi questi regali, perché il primo paio lo pagate, il secondo paio lo pagate il 50%. Articoli nuovi, articoli freschi, arrivati da primi settembre ad ora. Quindi ecco perché vi vogliamo bene, vediamo che la gente va via sorridendo al bottegone della calzatura. Un bacione a tutti.